Siamo ancora a Fano, siamo andati a vedere i carri, siamo andati, le strade erano tutte bloccate per tornare al camper, abbiamo fatto una scarpinata, è tardissimo per cui stiamo preparando un piatto inventato avevamo un po' di pancetta, l'ho impicciolato, l'ho messo a soffriggere quella della cipolla, l'ho messo a bollire dell'acqua e poi vedremo, in quel soffritto con la cipolla ci ho messo del pomodoro e lì abbiamo buttato la pasta riccia, abbiamo messo la pasta, la facciamo risaltare, e ecco i piatti, la pasta è impiattata, buon appetito!